Ciao a tutti, vi lascio per queste feste un paio di esercizi di lo yoga. Possiamo iniziare la nostra pratica con un bel respiro e possiamo iniziare prima sentendo il corpo, mettendo le mani sopra la pancia, dopo piano piano solleviamo le mani per sentire come stanno le costole, sentire l'aria lì e lento, ultima parte, salimo con le mani al petto e sentimo l'aria lì. E dopo mettiamo tutti insieme, facciamo un solo respiro, dopo fare il respiro e capire come sta il nostro corpo possiamo fare la serie di saluto al sole. Inspiro, sollevo le mani, allungo le braccia, metto le mani insieme, palma e palma e lento al espirare mettiamo le mani a terra. Inspiro, allungo la schiena, salto indietro come plank e daliccia, turanga, piego le braccia, lascio tutelaria e lento, spingo con le mani a terra, apro il petto, separo le spalle, espiro lento, vado con il bacino indietro, allungo la schiena, salto, cammino in avanti con i due piedi insieme, espiro, mi piego e lento mi sollevo di nuovo con le mani insieme e rilassiamo le braccia. E questo si può ripetere le volte che vogliamo. Vi auguro buone feste, viene a trovarti e al Cuscagliari in la sala fitness.